Il disegno tecnico permette la trasmissione univoca delle informazioni tecniche attraverso un sistema codificato di convenzioni e norme, coordinate a livello internazionale da organi competenti come ad esempio l'UNI, l'ente nazionale italiano di normazione. In questa lezione analizzeremo in particolare le norme e le convenzioni che regolano il disegno tecnico industriale e quello architettonico. Lo scopo è quello di spiegare le strategie per riconoscere i metodi di rappresentazione tecnici del design. Partiamo dalle norme in comune tra i due tipi di disegno tecnico per poi evidenziarne le differenze. Secondo le norme UNI i fogli di carta da disegno hanno dimensioni standard derivate dalla suddivisione di un rettangolo base. Nella serie A, la più diffusa, il rettangolo base è la zero. Esso ha le proporzioni di un rettangolo diagoneo ottenuto ribaltando la diagonale di un quadrato come si vede in figura ed ha l'area di un metro quadro. Il rettangolo diagoneo ha una caratteristica particolare. Dividendolo a metà sul lato lungo si ottiene un rettangolo con le stesse proporzioni dei lati. Dividendola a zero si otterranno quindi due fogli A1. Dividendo in due l'A1 si otterranno due fogli in formato A2 e così via. Una volta definito il formato del foglio su cui procedere con il disegno è necessario predisporre lo spazio. Prima di tutto è necessario tracciare la squadratura, un rettangolo posto a minimo 10 mm dal bordo del foglio che limita la zona di esecuzione del disegno. Poi si dovrà definire il riquadro delle iscrizioni, chiamato anche cartiglio, che è posizionato nell'angolo in basso a destra del foglio. Per riprodurre sul foglio da disegno un oggetto si deve ricorrere al metodo della scala, definibile come il rapporto metrico che esiste tra le dimensioni reali di un oggetto e quelle della sua rappresentazione grafica. Questo rapporto viene espresso da una frazione. Ad esempio si dice che un disegno è in scala 1 a 5 se la riproduzione è 5 volte più piccola dell'oggetto. Possiamo distinguere tre tipi di scale. La scala al vero, cioè la 1 a 1, in cui l'oggetto è riprodotto nelle sue dimensioni reali. Le scale di riduzione, come ad esempio la 1 a 2 o la 1 a 100, in cui il disegno rappresenta un elemento rimpicciolito secondo il fattore scelto. Le scale di ingrandimento, come ad esempio la 5 a 1, in cui la frazione identificherà nel primo numero quante volte l'oggetto reale è ingrandito. A seconda dell'ambito applicativo, per convenzione si utilizzano scale diverse. Ad esempio, nell'ambito dell'industrial design, le più utilizzate sono quelle dalla 10 a 1 alla 1 a 10. L'edilizia predilige le scale dalla 1 a 5 alla 1 a 500. Ogni scelta di scala comporta ovviamente una maggiore o minore definizione del disegno. In questa immagine possiamo vedere le differenze di rappresentazione tra una porta rappresentata in scala 1 a 200, 1 a 100 e 1 a 50. In teoria esistono innumerevoli scale di riduzione o ingrandimento, ma la normativa vincola l'utilizzo delle scale riportate nell'immagine, ossia quelle che vengono definite le scale normalizzate. Solitamente la scala di un disegno viene segnalata all'interno del cartiglio. Se vengono disegnati i dettagli a una scala differente, la scala scelta verrà riportata sotto la segnalazione del dettaglio. Nel disegno tecnico architettonico si utilizzano anche quelle che vengono definite le scale grafiche, che devono essere posizionate nelle vicinanze dell'elaborato grafico e sempre all'interno della tavola, ma non nel cartiglio, e che rendono la proporzione più facilmente comprensibile. Nel test d'ingresso vi potrebbe essere richiesto di indicare l'abbinamento delle scale di rappresentazione di due piante dello stesso edificio. Come è possibile farlo da un'immagine sullo schermo? Quello che è importante osservare è il rapporto tra le due immagini. Da questo si può notare, rilevando una misura presente in entrambe le immagini, che una è il doppio dell'altra. L'unica coppia tra le risposte possibili sarà di conseguenza la D. In questa immagine potete vedere la tabella che descrive i tipi di linea che possono essere utilizzati. I tipi di linea sono riprodotti a spessore diverso a seconda del loro significato. Capita inoltre che la loro applicazione possa variare da un ambito all'altro. Per esempio, la linea tratteggiata grossa si usa prevalentemente nel disegno tecnico-industriale, mentre nel suo corrispettivo architettonico si predilige l'utilizzo della linea tratteggiata fine. Le sezioni, in entrambe le tipologie di disegno tecnico, sono sempre utilizzate perché permettono di evitare l'utilizzo di linee tratteggiate per segnalare linee nascoste alla vista, che renderebbero il disegno meno leggibile. Tuttavia, esistono delle differenze. Nel disegno tecnico-industriale, la campitura che completa l'interno della sezione è sempre disegnata con linee sottili parallele a 45 gradi. Se due parti adiacenti si sezionano insieme, verrà semplicemente inclinata la campitura di 45 gradi nel senso opposto, se serve variandone anche la frequenza, in modo da identificare chiaramente le due componenti. In architettura, la campitura della sezione può descrivere anche il materiale di cui è composto un determinato componente. Dipende dalla scala di rappresentazione. Fino alla scala 1 a 200, il riempimento è a tinta piatta nera. Dall'1 a 100 all'1,25 si usa la campitura a linea sottile a 45 gradi. Dall'1 a 20 le campiture variano a seconda del materiale. La quotatura è l'insieme delle misure e delle informazioni necessarie alla definizione della forma e della funzione dell'oggetto rappresentato. La quota è l'insieme formato dalle linee di riferimento, dalla linea di misura e dal valore numerico. In architettura, le linee di riferimento non toccano la rappresentazione, ma vengono posizionate in modo perimetrale all'intero elaborato. Le frecce servono a identificare con chiarezza l'inizio e la fine della misura, che viene segnalata dal valore numerico, e possono avere stili differenti a seconda dell'ambito applicativo. Frecce chiuse o aperte si usano nel disegno tecnico industriale. Tratti inclinati di 45 gradi e punti vengono utilizzati principalmente in ambito architettonico. Esistono poi altri simboli che fanno parte del sistema di quotatura e descrivono altre caratteristiche del progetto. Vediamone alcuni. Questo è il simbolo che definisce la rugosità di una superficie di un pezzo meccanico. Si parla quindi di disegno tecnico industriale. Questo invece è il modo in cui si definisce l'altezza del soffitto del locale di una pianta rispetto al piano di calpestio. Oppure questi sono i simboli che definiscono la quota rispetto al piano strada, sia in pianta che in sezione. Nel disegno tecnico industriale i disegni che rappresentano i vari punti di vista dell'oggetto si chiamano semplicemente viste, vista dall'alto, laterale, frontale e così via. Nel disegno tecnico architettonico invece si parla di pianta per definire la sezione di una vista dall'alto di un ambiente ad un'altezza dal piano di calpestio di 120 centimetri con lo scopo di rendere visibili le aperture delle finestre. Prospetto corrispondente alle viste sui piani verticali con lo scopo di descriverne le facciate. Nel disegno di architettura assumono particolare interesse la descrizione di quegli elementi che mettono in comunicazione i vari ambienti, come gli infissi, finestre e porte e le scale. In particolare le scale possono essere di vario tipo, a una o più rampe, a chiocciola, con o senza pianerottolo. Il senso di salita viene segnalato convenzionalmente con una freccia posizionata in mezzo alla scala. Durante il test potrebbe essere richiesto di riconoscere dei tipi di rappresentazione tecnica presenti in un disegno. In questo caso vi si chiede di classificare i disegni servendosi dell'appropriata terminologia per indicare il tipo di rappresentazione utilizzata. Cerchiamo di dare un nome ai disegni. Il numero 1 sarà la sezione. Il numero 2 un prospetto. Poi uno spaccato assonometrico. Una assonometria obliqua monometrica. E infine una pianta o planimetria. Bene, la risposta corretta sarà quindi la B.